Il seggiolino Salva Bebé, ideato dagli studenti dell'ISIS Ricofermi di Bibiena, sbarca in Parlamento. Il preside dell'Istituto Casentinese, Gidio Terzillo, e il professor Luigi Barcellini, che assieme ai ragazzi idearono il dispositivo nel 2013, oggi sono stati ricevuti a Montecitorio per esporre alla Commissione Trasporti le caratteristiche del dispositivo, un incontro che sarebbe stato organizzato proprio in vista dei lavori per varare la nuova legge che dal 2019 dovrebbe rendere obbligatorio l'uso del dispositivo. Il seggiolino, ricordati di me brevettato ma non ancora prodotto, può essere collegato all'impianto elettrico dell'auto o funzionare in autonomia. Il dispositivo è in grado di evitare tragedie che purtroppo si sono verificate anche nel territorio aretino, quelle dei bimbi morti perché dimenticati in auto. Il seggiolino avverte infatti nel caso in cui il piccolo sia rimasto chiuso all'interno della macchina. In questo caso automaticamente si azionano le quattro frecce, si abbassa di qualche centimetro il finestrino, suona un allarme ed infine parte un segnale via sms ad una serie di numeri telefonici registrati. Il progetto fu premiato al concorso italiano per giovani inventori in factor, classificandosi al primo posto tra le idee finaliste. Ma il seggiolino non è l'unico progetto ideato dagli studenti dell'Istituto Casentinese che hanno anche realizzato il pluripremiato robot Tutor 1 che assiste agli anziani. Romeo, il dispositivo, è in grado di entrare in ambienti ossili per l'uomo e inviare dati utili a rilevare la pericolosità e la presenza di sostanze nocive ed infine Battista, il robot maggiordomo.